Una stagione da incorniciare, quella 2017 per l'asparago bassanese, la conferma arriva direttamente dai produttori del Bianco Turione. La stagione è partita con i migliori presupposti perché la tradizione è partita quest'anno, il giorno di San Giuseppe, dal 19 marzo, se ha cominciato a avere prodotto. Ed erano anni che questo non accadeva. Il sole ci sta agliettando, quindi il prodotto se ne trova, si continua anche a raccogliere e anche una qualità veramente eccelsa quest'anno. Per promuovere l'eccellenza bassanese l'amministrazione ha pensato di affiancare alla tradizionale mostra concorso dell'asparago quattro giorni di esposizioni, degustazioni, incontri e show cooking all'interno del Museo Civico di Piazza Garibaldi. Per noi è l'occasione di dare, da una parte, maggiore rilievo, maggiore sostegno alla produzione e al consumo dell'asparago dopo di Bassano, dall'altra di dare maggiore apertura a questa struttura museale che diventa il luogo delle eccellenze artistiche, ma anche in collegamento con l'alta cucina e con l'alta produzione enogastronomica del nostro paese. Asparagus è il nome della manifestazione, in programma dal 22 al 25 aprile, che vedrà anche la presenza di Steph Scellati e di due concorsi, l'uno riservato alle scuole, l'altro ai bartender cittadini.